E adesso è l'ora della nanna. Ma è presto, lo vuoi capire? Io non dormo a quest'ora. Io vado a letta a mattina, puoi almeno farmi per qualcosa, un gintonecchino? Osea, senza me nulla non dormo. E allora ti leggo la favola di Pinocchio. A me tu me la vuoi leggere la favola di Pinocchio, la so a memoria. C'era una volta un pezzo di legno. Lo santo te lo metterei, mammettina, il pezzo di legno, io? Cristerino? Vabbè, racconta, dai. Questo pezzo di legno andò a casa di Mastro Geppetto. Mastro Geppetto voleva costruire... Scusa, mammettina, se ti interrompo, potresti perlomeno arrivare alla fatina? Così a meno, guardo se dopo posso fare una cosina, anche se ho queste malettine marce. Cristerino? Vabbè, racconta, forse. Proprio così, un semplice pezzo di legno, di quelli che d'inverno si mettono nelle stufre o nei camionetti per accendere il fuoco. Un bel giorno, non so come, questo pezzo di legno capitò nella bottica di un vecchio faragliare. Mastro Geppetto... Che... ... Grazie a tutti.